Aumentano i costi e anche i latari. La causa di questo balzello che rischia di pesare sulle tasche delle famiglie dell'area regina è dettata dalle spese di trasporto e smaltimento di rifiuti fuori regione, una probabilità che è immersa nel corso dell'ultima assemblea tra i sindaci del lato. La mancanza di impianti sul territorio infatti rende necessario questo passaggio. Sono state avviate le procedure per l'affidamento tanto dell'organico che degli scarti alla società contattata dalla regione al miglior prezzo unitario per il tempo strettamente necessario per svolgere una gara europea a procedura aperta stimata in circa quattro mesi. Operazione che si annuncia già costosissima ma la copertura è già stata prevista. Le spese nascenti dagli affidamenti impegneranno pro quota i singoli comuni nei confronti della società individuale e saranno assicurate dai provvedimenti dell'atari che i comuni al lato riscuoteranno. Tanto infatti si legge nel verbale della seduta dell'assemblea dei sindaci. L'incontro degli amministratori del territorio è stato utile anche per fare il punto rispetto alla necessità di prevedere nuovi impianti sul territorio del lato reggino. Per l'impianto di Siderno in effetti l'assenza dei commissari non ha consentito di arrivare a nessuna determinazione mentre è stata confermata la disponibilità all'installazione di un impianto di trattamento della frazione organica nel comune di Rosarno.